La immagine di Dio che viene presentata a noi risente di una educazione falsificata. I giovani questo non lo sanno, ma noi che abbiamo una certa età non possiamo negare che dovunque troviamo dei cartelli Dio ti vede, Dio ti vede. Alessandro Manzoni racconta che era entrato nel convento, nel refettorio dei frati Capucini e c'era la canoa, entrò nella canoa e voleva prendersi delle castagne. Alzò la testa e vide Dio ti vede e lasciò subito le castagne. Una educazione rigida che è rimasta nella nostra psiche. Temere Dio, invece Dio è padre, è padre buono. La mentalità degli ebrei è portare non soltanto il gregge come il buon pastore, portare il gregge, ma accompagnare il gregge, vivere per il gregge. Il pastore è la stessa cosa con il gregge, il gregge vive per il pastore e se le pecore hanno sete, il pastore non beve, aspetta che le pecore bevano prima di lui e poi beve lui. Ecco il concetto del buon pastore, il buon pastore dà la vita per le pecore. E quindi questo concetto lo si deve portare nella vita spirituale. Gesù è stato veramente il buon pastore, ha dato la vita per noi. Ma lo stesso padre Pio ha dato la vita per noi. Sempre, tutta la giornata, dalla mattina presto, molto presto. Io ricordo di essere entrato nella stanza di padre Pio alle tre di notte perché mi dissero se tu vuoi confessare da padre Pio devi andare alle tre di notte. Di fatti, andai, la porta era aperta, bussai e mi disse di entrare e mi confessò. Alle tre di notte padre Pio stava con la porta aperta e già recitava il breviario seduto al tavolinetto. E tutta la giornata era impegnato. E arrivava la sera ed era stanco, ma molto stanco. Era il buon pastore che si preoccupava di curare le pecore matte, di curare le pecore malate, di accarizzare l'agnello saltellante, di accarizzare la pecora che aveva data alla luce gli altri agnelli. Cioè, la figura del pastore è la figura molto bella della Sagra Scrittura che applica a Dio Padre e quinto a Cristo Gesù. Allora, noi viviamo in lui e lui vive in noi perché in lui noi vediamo il buon pastore e lui vede in noi la sua pecorella prediletta. E siamo sicuri di quello che noi facciamo? Uno sguardo alla famiglia piccolo greggie. Quanti angoli oscuri, quante cose che non si dicono, che è meglio tacere, quanti sconfinano per prudenza tra persone che amiamo. Come ci comportiamo con il nostro parlare con Gesù? Nelle famiglie si sviluppa sentimento di timore o abbiamo imposto da piccole che Dio vede tutto, Dio ti vede, sentimenti di essere spiati e controllati da Dio. Oggi chi sono i buon pastori? Il Papa, il Vesco, i sacerdoti, ma non soltanto questi. Ogni persona, popolo di Dio, deve essere un buon pastore. Il medico, il contadino, il fabbroferraio, eccetera. Tutti buon pastori, cioè tutti proiettati nella santificazione propria e nella santificazione degli altri. E questo è quello che ci ha insegnato Padre Pio. Salvatevi per salvare. Salvatevi per salvare.